musica 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 non è che fai ricetta padrone no io non so sei no? loro sono anche bravissime non so vabbè tanto poi era con i paperazzi hai dato su il caffè poi mi spettino tutta qua ma tanto sei già spettato nei primi mattini nooo non esiste proprio ma hai già in doliette già tutta pettinata non esiste proprio tu ti vuoi spostare più piccolo sono chiuso un numero di anni musica 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 amore rispondi tu? chi è che storia? chi è l'alba? ma guarda non è città non svolta tua moglie stop stop chi è chi non ha un copo? chi è? è passato pure l'uccello si giulio si entra nel personale giulio stop che cazzo l'ho detto facci eh sei troppo fuori eh tutta la gente dietro non va bene io sono Paolo Antonio ciao 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 Poi sto con travia Allora in marimonia la musica La cittadina con il pazzo Stai a chiederti tutto e gioco Ma la mia Quanti volte un quarto d'ora per uscire di qua uscire da marino Brava coppia, brava coppia così così Baccialo Ok, siamo sempre sui due Mazza, proprio il momento è giusto Mazza, proprio il momento Vada, 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 vada guarda sopra Attenzione che state per arrivare, ah no vabbè no fate male valedi valedetti valedetti bye vengo 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 in